eccoci qua signori miei alla seconda puntata e perciò perché il discorso è lungo allora per prima cosa principale volevo ringraziare tutti gli invitati che sono venuti da fuori io parlo della famiglia stretta del tubo quelli che erano invitati erano di una eleganza spettacolare mamma paola diciamo casembrea con antichia vabbè ma non fa niente ci può stare ci può stare un pochino sbrio capito nel matrimonio quindi vi ho raccontato il fatto già della macchina delle ruote bucate un sabbis sonoro si chiudono subito capito si chiudono subito hanno detto che non sono stati loro dice noi possiamo fare mai una cosa del genere a te a cat mettiamo i covantava si la potete fare c'è poco da fare la potete fare solo vuote la potete fare ora sto indagando queca fuga ce li sa a tutti di non affacciare sapete che delusione comprare e spendere soldi nei vestiti per non per poi il popolo non guardarmi cioè ma stiamo scherzando io non ci potevo credere i balconi chiusi vuoti erano dintre perché i condizionatori giravano erano dentro cioè ma vi rendete conto con un vestito del genere rimanere a piedi con la macchina scendere in mezzo al traffico gente che passava con la macchina che rideva perché ci sentino prio e gente ci sentino prio quando a qualcuno ci succede con qualche cosa che sto io mi sto rendendo conto cari amici comunque nonostante questo arriviamo in chiesa c'erano tutti i parenti di lui di mio genero montone che non conosco tanto tutte persone fine qualcuna proprio in terra c'era puro inutile che dicono la finezza la sua famiglia era meglio la mia perché qualcuno scafazzato c'era che io già subito quando aprono bocca nel movimento forse la più fina ero io arrivo ok calo la testa a tutti signori ce l'avete presente gli occhi del polpo a così tutti puntati su di me le teste facevano così alza e si abbassa perché mi osservavano dai piedi avevo le scarpe fino comunque finisce qua lui era lì montone bellissimo con un vestito particolare che pareva che duro gelato comunque non fa niente non fa niente pensate pensate che una signora assetata assetata proprio che si vedeva che non faceva parte del matrimonio poverina era un po anziana è passata così si è fermata andò da mio genero assetale ci sta facendo l'augure qualcuno che conosce no gli ha detto mi dia una granita ce l'ha una granita tanto per dire com'era l'abito di mio genero va bene com'era andiamo al rientro io entro in chiesa e comincio a guardare sotto i banchi perché qualcuno poteva far cadere mio marito no perché è mia figlia samara quando casevano che è da così e comincia già nella chiesa stesso io chissà ora me la devo ragionare io pensavo che c'era qualcuno che suonava era un cd e si incantò pure e gli facevano un passo avanti un passo indietro un passo avanti io sono dovuta intervenire certo oh ma c'è una botta non c'è di cala così riparte e da con se fosse no si stava da sempre così ti 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 ma come si deve fare dico io finalmente parte sta musica entra montone con sua mamma signori miei l'applauso cioè ma si fa l'applauso in chiesa con uno chassi un rispetto non è di cui applauso terribile io mi sono un pochettino capito perché ho detto ora devo vedere quando c'è se mio marito pino capito nel frattempo vedo che si preparano fuori pino ma si sorrere che c'è via l'abito di lana mio marito lui è freddo l'osso io ci vissi mettere 40 gradi c'era non da chiesa e quindi vede allora io diceva asciugati il sudore asciugati il sudore così capito e lui niente sembrava una fontanella una fontanella allora ci appagghi io siccome io queste cose le so avevo la tovaglia mi portavo una tovaglia quella che si asciuga la faccia capito nella borsa mi scivola così e ci lavavo tutto il susurore ci disse chassi io non ho visto bene l'ingresso perché subito mi sono messa lontano per vedere se qualcuno allungare amme come quando fu per mea perché le mie con una delle mie cognate fu nel mio matrimonio che allungo amme pace non è che ce lo dobbiamo dimenticare io c'avevo il bastone del serfa chiesa capito questo qua pronto appena che noi io ma una mia nipoteca questa ce l'ha appena dire loro allunga amma e fa legare nel tuo curritore nel tuo tappeto della chiesa capito io mi ragionavo signori miei fu un matrimonio per me investigativo pigliava appena vitte fare camera così pigliavano quei picchi sopembe sai che cosa entriamo le gambe ci ho detto tutti dovete stare tutti dentro le banchi ci ho detto io così usci direttamente ok poi è venuto naturalmente l'amico nostro quello che doveva fare la messa e mi ha detto signora se continuo così la devo fare uscire ci sei lei fanno uscire ma dire che è così signore loro fermi la così e che tagliavano l'abito di mia figlia tutti che guardavano tutti che scrutavano direttamente così io li guardavo e facevo tipo vi immaginavate che mia figlia si sposava casottana non si sposò casottana mia figlia assolutamente a così pensava io non è che ce l'ho detto perché già il prete mi aveva detto signore non deve parlare va bene rispettiamo andiamo andare signore si aspettava la musica e sempre ma a cucciumiselo a chi su caga metteva la musica io dico cucciumis si aspettava la musica e mi parte signore che questa era una musica per la sala mi parte non ci avete più e voi dice ma che state con me lei dice signora mi scusi ho sbagliato il città non mai ricomma se fanno queste cose ed è ripartito di nuovo taglia e speriamo che un s'incanta un s'incanto eccoci entrano lui con una finezza ci prende la mano a lei capite io nel frattempo mi accorgo che mia figlia manco si abbia lavato sotto l'ugna e del fotografo che ci si afferrava un fotografo non fare fotografie nelle mani non ne fare per ora quindi quando finivo la messa l'ho dovuta chiamare ci viste potenziare l'ugna ci disse che tu cazzi che hai toccato con queste unghie nere che lei ha scelto lo smalto quello bianco capito tutto qua dice dice mamma ma ti rendi conto invece l'aria bianca e con delle cose nere cazzo fischi chi dà lo trucco dice che è una cosa che si usa io risiale l'ugna nascita ma come si deve fare comunque una bella cerimonia tutto bello mi accorgo che la mia consuocera sparrettava capito me ne ha fatto accorgere marinella e giussi sparrettava non vi preoccupate che ci penso io ci vuol dire ma avevi qualcosa da dire su di me dice mi posso permettere mai già chissà fu campanellorale perché in questa sala ci ci vedete poi io in questa sala e piglia prima piglia la seconda prende la terza poi finio arriviamo fuori e vedo che tutti si mettono a ridere in un modo schiazzoso che in un matrimonio non deve esserci quando proprio gli sposi escono ed esco pure io che mi sono messa di lato perché abbiamo deciso di metterci loro uscivano così io di qua con mio marito e i miei consuoceri vivano anziché fare soltanto gli sposi ridevano picchino io avevo la rete ma cattavo la rete signore a mia volevano fregare che una volta mi hanno tirato i ceci anziché il riso a mia quindi appena io ho fatto così che mi si scarrite con il catenaccio proprio potevano buttare pure pietre non mi facevano niente vedo vedo che buttavano petali di rosa così allora mi fa mio marito più da lei i petali stanno buttando non quello che pensavi tu neanche il riso stanno buttando dice me la posso levare la rete signore una svista mia d'occhio che facevo sempre così perché io ero elegantissima e mi guardavano mi piscino più preo i parenti dalla parte di mio genero canò i miei signore il tempo che faccio così vedo a arrivare una manacciata di ceci a mio marito non ti faccio e più a mio marito canta l'occhio e c'è via e cale ma che fai dice ho levato la rete e tu riesci io non bisogna avere fiducia ora va bene in tà confusione cutatero capito e mi chiamo quello che tirava il filmino ci riesci vieni qua controlla subito ancora dice che è malattie e devo vedere che controlla subito chi ci ha tirato queste carie a mio marito che ti faccio vedere io che gioca a fare e io ci vai io posso casa ci vai tutti assieme che caldo e ora che facciamo che caldo andiamo direttamente in sala siccome io nella mia finezza ho comprato il magafono ora vivo allora ma si senteva capito si sono fermate anche le macchine pure l'autobus si fermò allora in sala c'è un orario si arriva alle ore 20 celesteo chiaro dice ma noi che dobbiamo fare i tv ma a casa fatevi un giro quello che volete ma in sala sanno e aprono i cancelli alle ore 20 accominciamo celesteo dice che a tutti sull'attente e così ci avviamo per andare i giovani hanno preferito una macchina d'epoca per andare via tutta con i barattoli di pelati dietro ma io me ne addonavo che erano sane i pelati non vuoti erano pelati io diceva ma sono pelati queste cose capite se nero con la cosa che ci pareva che si strascinavano sti pelati che facevano rumore che si usa quando mai io sempre armata di tutto forbici e pigliamo un sacchettino e non ci siamo mai di tutta la macchina che mi è niente a mettere i pelati i pelati che camminano pesciata con tanti che siano i camoni mi fa me ce li si ho fatto bene oh e così ci avviamo in sala che è successo alla prossima puntata capo rico